Ciao a tutti! Oggi è un brevissimo video fuori programma solo per dirvi due cose molto importanti. La prima cosa importante è che da domani non saranno più in vendita le magliette ispirate al canale. Per intenderci, questa bellissima maglietta che indosso adesso è, come potete vedere, chiaramente ispirata al canale, anche la scritta Time to be a cat, che è un po' il mio slogan, insomma, è una frase che ho riportato su tutte le mie grafiche. Se quindi vi piace questo design o l'idea di avere una maglietta uguale alla mia, ispirata al mio canale, vi consiglio di affrettarvi perché avete tempo solo fino al 31 luglio. E poi diciamocelo, quanto è adorabile questa maglietta, c'è pure la cibi sull'albero! Le magliette le potete acquistare sul sito Snaptrend, di cui vi lascio il link qua sotto in descrizione. Vi consiglio di darci un occhio perché sono state aggiunte anche delle nuove varianti, secondo me, molto ma molto carine. C'è una maglietta un pochettino più morbida di questa, due tipi diversi di canotte e inoltre potete scegliere il colore della vostra maglietta. Potete trovare quindi tre modelli diversi dello stesso prodotto con tre prezzi differenti. Ringrazio in anticipo chi deciderà di acquistare la maglietta e quindi sostenere il canale e il lavoro che faccio qua su YouTube. Non potete immaginare quanto sia importante e quanto mi renda felice questo progetto. Mandatemi, mi raccomando, le foto con indosso la vostra maglietta perché sono veramente molto molto curiosa. La seconda cosa importante che ci tenevo a dirvi è che per una settimana e mezza, massimo due settimane, non troverete alcun video qua sul canale. Questo perché andrò in vacanza e ho deciso quest'anno di prendermela veramente con calma, di rilassarmi e di non dovermi preoccupare dei video mentre sono all'estero. Quindi voglio veramente riposarmi. Era veramente tantissimo tempo che non mi prendevo una pausa, una vacanza tutta per me. Quindi ho deciso di rallentare con il canale e prendermi appunto questa breve pausa. Se non vi risponderò ai commenti o ai messaggi privati sui social, non preoccupatevi perché al mio ritorno risponderò a tutti. Vi ricordo che potete acquistare le magliette del canale fino a domani, 31 luglio, sul sito Snaptrend. Link qua sotto in descrizione. Grazie, 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 grazie a chi avrà intenzione di acquistare questa maglietta. Io vi saluto e ci vediamo prestissimo. Ciao! Ciao!